Tutto è pronto, possiamo partire. Prepariamoci a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Tenersi a destra e ora voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a sinistra. Tenire-se a destra. Uscire 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 a destra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.